Un deposito nazionale per rifiuti radioattivi in Basilicata e quanto prevede la carta delle aree potenzialmente idonee ad ospitare una struttura del genere. Il governo regionale ha già fatto sapere che si opporrà con tutte le sue forze a tale ipotesi avanzata dalla SOGIM. Non eravamo stati informati, ha dichiarato il presidente della Basilicata Vito Bardi, e ribadiamo la nostra contrarietà a questa scelta, certi di interpretare il comune sentire del popolo lucano che, come è noto a tutti, ha già manifestato questo orientamento in maniera composta ma decisa 17 anni fa, quando fu indicato il sito di Scanzano Ionico. Ora, come allora, il nostro territorio, che contribuisce in maniera rilevante al bilancio energetico del Paese con le proprie risorse naturali, non può essere ulteriormente gravato da un'attività che rischierebbe di mettere in discussione e di pregiudicare la prospettiva di sviluppo sostenibile che, con tanta fatica in questa difficile congiuntura dovuta all'emergenza sanitaria in atto, le istituzioni e le forze economiche e sociali stanno cercando di concretizzare. Tra i siti indicati ci sono Oppido Lucano e Acerenza. Giovedì prossimo, alle 10.30, si terrà una riunione via web con tutti gli organismi regionali interessati, ARPAB, sindaci e presidenti delle province. Insieme dovranno stabilire le azioni da adottare per evitare la realizzazione in Basilicata di un deposito di rifiuti radioattivi. I consiglieri regionali del PD, Roberto Cifarelli e Marcello Pittella, propongono il coinvolgimento anche dei gruppi di minoranze in Consiglio regionale nella consultazione pubblica del prossimo 7 gennaio. Siamo pronti, dicono, ad una risoluzione unitaria in Consiglio che dia forza ad ogni iniziativa si ritenga utile a intraprendere. Grazie.